Non ha resistito alla tentazione di festeggiare il Capodanno, così è uscito dalla propria abitazione non rispettando l'obbligo di restare a casa durante le ore notturne. Un 26enne marocchino di Limido Comasco è stato arrestato e portato al carcere Bassone dai carabinieri di Mozzate. All'uomo, finito nei guai per spaccio di droga, era stata riconosciuta una misura alternativa al carcere, l'affidamento terapeutico, che tuttavia tra gli obblighi aveva quello di stare in casa tra le 20 della sera e le 7 della mattina. La tentazione di partecipare però ai festeggiamenti per la sera dell'ultimo dell'anno è stata più forte. Così, quando i carabinieri di Mozzate sono arrivati in casa intorno alle 23 per verificarne la presenza, hanno suonato in vana il campanello della porta. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha emesso un'ordinanza di sospensione della misura alternativa e l'uomo è stato dunque accompagnato alla casa circondariale di Como.